musica 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 hello sono tutti sono Perret eccoci qui nel nuovo episodio della Yoggbox oh yes quindi andiamo avanti in questo nuovo episodio della Yoggbox dove giocheremo a ma e quello cos'è una che conformazione strana è mai quella andiamo a vedere oh mio dio oh mio dio tu che cavolo sei via oh mio dio cos'è questa cosa incredibile è tipo un pterodattilo ma non lo è oh l'ho rovinata e tu che hai da guardare via vabbè questo oggi questo nuovo episodio di ah no non ci riesco ah non ci riesco beh pesce d'aprile uh pesce d'aprile eh sì se non era già ovvio probabilmente molti di voi ci saranno arrivati prima che questo è un pesce d'aprile ovviamente è caricato il primo aprile che tratta di un argomento che avevo detto più e più volte che non avrei più ritrattato su un canale che in teoria è chiuso e anche in pratica perché non riprendono a fare video su questo canale continuo a farli sull'altro l'orso videogiocatore e su twitch però su twitch non sono video sono più live che video effettivamente ah però che bel seed che è spawnato e quasi mi viene voglia di tornare a fare no minecraft è stata una grande parte della mia vita un gran bel gioco lo consiglio ancora a tutti quelli che non ci hanno mai giocato però no basta davvero basta forse in futuro mi verrà voglia di rigiocarci ma ora proprio no e in caso lo faremo su twitch comunque pesce d'aprile finito la jogbox non torna ovviamente e non torna in attività questo canale non farò più video su questo canale ovviamente questo era solo un simpatico pesce d'aprile che probabilmente ancora molti di voi non ci saranno minimamente cascati però magari qualcuno oggi se era dimenticato che era primo aprile e magari ci è rimasto davvero sorpreso a dire wow forse è davvero tornata la jogbox e invece no e che dobbiamo fare quindi mi ringrazio per aver visto questo video se volete continuare a seguirmi mi ritrovate sull'orso videogiocatore e su twitch i link dovrebbero essere in descrizione se non me ne dimentico quindi vi ringrazio ancora tantissimo per aver visto questo video e si è davvero un bel seed davvero oh i salmoni cacchio questa roba che carini li ho visti spessissimo in video però dal vivo forse no forse dal vivo non li ho mai visti o forse che adesso ho il computer in 4k e in 4k i salmoni sono davvero spettacolari comunque ancora vi ringrazio per aver visto questo video purtroppo no niente pesce eh volevo dire niente ritorno della jogbox ma sarà soltanto un pesce d'aprile purtroppo eh mie care galline quanto siete carini in 4k Minecraft in 4k è tutta un'altra cosa altro che giocare che ne so Metro il nuovo Metro Exodus in 4k Deus Ex no Minecraft è il vero gioco da giocare in 4k e 60fps stavo per dire 40k anche tu sei abbastanza rara come mucca eh guendalino è una mucca un po' rara quella non trovi eh? si è una mucca rara comunque vi ringrazio per aver visto questo video ci rivediamo in live è la 72esima volta che vi ringrazio però non lo so questo pesce d'aprile è fatto venire davvero voglia di gio no non è vero ci vediamo la prossima volta ciao e sto video deve essere almeno di 10 minuti cioè sennò che abbiamo fatto? 4 minuti? non sta 6 minuti così sennò poi dai davvero è proprio non credibile alla massima potenza quindi ci guarderemo negli occhi come due innamorati per altri 6 minuti o 3 innamorati in caso siete siate in 2 o 4 o 5 dipende da quanti inestiti però ogni tanto dovrei cambiare posizione perché sennò poi se uno con la col mouse col puntatore va più avanti nel video lo vede che sono sempre nello stesso posto e dice ahah ecco allora era un pesce d'aprile invece magari se va avanti e vede che effettivamente stiamo facendo qualcosa sembrerà davvero che questo video è un video di del ritorno di minecraft e della yogbox ci pare no? che dite? beh penso che si non lo so secondo me non c'è cascato nessuno ditemi nei commenti se effettivamente ci siete cascati oppure no oltre agli insulti che probabilmente mi arriveranno no non è vero non mi arriverà nessun insulto perché penso che nessuno ci crederà sta cosa dai è troppo ovvio nessuno ci casca più ormai ai pesci d'aprile ci cascano solo le persone che si dimenticano che è il primo aprile tipo magari le persone che vanno al lavoro e roba del genere le persone che hanno perso la cognizione del tempo come me perché io purtroppo devo ammettere che a volte ci cascano il pesce d'aprile nel primo pesce d'aprile che becco perché mi dimentico che il primo aprile e 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 ci casco quindi quindi può capitare alla mia persona e ciao siamo a 7 minuti che in realtà non sono 7 perché io non ho iniziato all'istante a fare il video quindi sarà di più e quindi si dai questo dovrebbe essere abbastanza credibile si spera si spera poi magari non lo so mi inventerò qualcosa per allungare il brodo o forse no e o forse no e una e 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 s Grazie. Per! Che c'è going? Dov'è tu avere mezzo di mia portata di distruzione? Ma che caccio ne so? Chiedi a me! Che c'è il suo leggere quando tu rompi le scatole? Che cacchio? Scusi! Cacchio! Che cacchio? 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 Dov'è tu portata di estruzione? Che cacchio? Ma questa casa è tutta inutile! Ue che scatole? Ogni volta che devo leggere la gente rompere le scatole? Oh io non lo so! C'è uno vuole soltanto leggere in questa casa e non può farlo! Non può farlo E le coin Le urla Le dottor coin Che io non lo so Davvero non lo so Uno vuole leggere E vedere Quanto è bello Ganondorf Eccolo qua Bellissimo E non può farlo in questa cassa Non si può Non si può proprio Mamma mia Ma che cacchio Grazie Grazie I'm back Probabilmente non avrò Spaventato nessuno Probabilmente Però Ci abbiamo provato Allora Che dovevamo far qua Dovevamo cercare una nuova casa O no Che stavamo facendo Mannaggia Ah Scusi Scusi Se per caso Ma le sembra il modo Prendere a frecciate La prima persona che incontra Sa gente Oggi non si è proprio Religione a questo mondo Allora Che giocare una nuova casa La prima persona che incontra Per queste cose potrei anche fare un fermo immagine Invece di restare davvero fermo come un deficiente Non mi sono mosso Ma che è la roba che vuole? Ah, Minecraft e sui pa... Roba che si teletrasporta Ma che cosa è diventato questo gioco? Avevano ragione gli antichi egizi Minecraft ci rovinerà tutti L'avevano detto L'avevano detto Wow, non sono morto Wow I'm destructible Nessuno può sconfiggermi Fuck Andiamo Ouch Venga con me signor Spider-Man Salti nella lava Salti nella lava Wow, wow Ah, dai Vabbè, ciao Penso che il video sia durato anche abbastanza E ci rivediamo nel nuovo video Ciao Chissà se questa volta davvero il video finirà Probabilmente se state guardando il timer ve ne accorgerete